Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Effetti Piroc Tecnici, no, a parte gli scherzi, non è una puntata su come far esplodere una lampada ma bensì come provarla. E quest'oggi parleremo delle lampade Axion, un argomento che non abbiamo mai trattato sul nostro canale della Computer Museo. Questo è una funzione che in pratica si può svolgere anche con le lampade del proiettore, in quanto hanno sempre due poli. Però ora vi spiego velocemente come sono composte queste lampade, a differenza di una lampada halogena. Queste lampade hanno un sistema ad arco, ciò vuol dire che c'è una corrente ad altissimo voltaggio che passa da questo filamento, ora ve lo sto spiegando proprio in maniera molto basilare, quindi i più esperti siate clementi per i più giovani che vogliono imparare, visto che ci sono già state altre volte che ho notato che qualcuno commentava perché diceva che spiegavo troppo male, però appunto io spiego nella maniera più semplice possibile. Comunque c'è un arco che va a crearsi tra questi due, che non si possono notare tanto facilmente soprattutto con la messa a fuoco del mio telefono, ma dentro questa ampolla ci sono due specie di lamette, chiamiamolo così, molto vicine, che vanno a creare un arco. Una volta che si crea questo arco la corrente si abbassa molto velocemente, anche il voltaggio della lampada, quindi non il voltaggio 12 volt, ma il voltaggio proprio interno della lampada, in quanto l'arco ha la stessa funzione di una lampada a neon, quella col reattore, quindi in pratica crea una sorta di luce momentanea e poi appena si accende crea una luce molto più forte. Questo comunque che vi vado a spiegare oggi appunto è un sistema molto completo, infatti può essere fatto come le lampade della vostra macchina, come anche le lampade del proiettore. In caso che è una lampada del proiettore, vi consiglio di acquistare una di queste centraline, che non costano praticamente nulla. Sono centraline che permettono appunto l'alzamento della tensione, quindi vanno proprio ad abilitare queste lampade. Ovviamente se utilizzate una lampada del proiettore, sua lampada di solito viene anche caratterizzato il vattaggio. In questo caso questo sistema, questa centralina, permette 12V fino a 55W. Questa è una lampadina da 50W, se non erro, hanno sempre 55W, quindi è proprio precisa con la nostra centralina. E a parte questo siamo pronti per iniziare. Allora, in tutto questo io vi consiglio di utilizzare un alimentatore professionale per alimentare appunto queste lampade. Questi alimentatori li trovate a 50€, 40€, oppure per la versione più base da 2A, si trova praticamente a 2A. Però 2A non sono sufficienti, perché questa lampada funziona a 5A, una roba del genere. Quindi già questo qua è perfetto, perché è 30V, 10A. Una volta che noi premeremo il tasto, quindi una volta anche settato già tutti i parametri e roba del genere, se lo premiamo, si accenderà. Come avete visto, la luce, a parte creare una forte luce, veramente molto calda, ma soprattutto molto forte, fa un arco che praticamente, guardate, questa è solo la lampada che sta creando una luce assurda. Questi sono 55W di luce. Cioè è una roba assurda. Adesso io tento anche di farvela vedere il più possibile, poi devo spegnerla assolutamente, perché si scalda immediatamente. Come vedete, sta consumando 5A, che come vedete, appena si incomincia ad abbassare, cioè appena viene caricata, che la luce è bella calda, come vedete sta cambiando anche l'intonazione del colore, non è più bianca, ma più sul giallo. Come vedete, andrà a consumare sempre di meno. Ora spengo, perché altrimenti rischio di bruciare il tavolo, anche perché c'è già una temperatura veramente molto elevata. Infatti questa lampada, l'unica pecca, è che appunto ha un'alimentazione che va a scaldare molto di più del normale, quindi in conseguenza rischiate anche di bruciare, in caso come ho fatto io con la sua vecchia scocca, chiamiamola così, è andata praticamente, come vedete, a bruciarsi sopra, e quindi ho dovuto fare un'operazione chirurgica per tirarla fuori. A parte questo, questo era il semplice modo su come testare questo tipo di lampade. Ovvio, se la dovete testare una, fate prima ricomprare tutta la centralina o la lampada per il proiettore. Se invece dovete testarne più di una, quindi come se siete magari dei meccanici o roba già e volete testarle, ci sono questi fantastici alimentatori variabili, e poi l'alimentazione è polo positivo e polo negativo, e poi collegare il tutto. Quindi, per il resto da Computer Muse è tutto, grazie ancora al prossimo episodio. Ciao ragazzi!